Buonasera a tutti dalle delizie del contadino, ormai Natale alle porte e i nostri cestini natalizi sono in continua preparazione. Questa sera vogliamo mostrarvi un cestino che deve andare da un nostro carissimo amico che si trova a Milano, che ce l'ha richiesto e adesso verrà preparato e nella giornata di domani spedito. Allora andiamo a inserire, partiamo da delle leccornie dolci e inseriamo i fichi ricoperti con ricopertura mista bianchi e neri. Poi crocette di fichi con all'interno le noci, un vasetto di miele, millefiori, biologico, fatto da un'azienda qui da noi a Cetraro. Un pacco di mandorlati, 100% miele senza aggiunta di zuccheri e una specialità tutta calabrese, un salame di fichi fatto artigianalmente. Ora passiamo al piccante, ha richiesto un vasetto di infuocata calabrese, dei peperoncini ripieni col tonno. Poi l'immancabile Nduia di Spilinga abbinata con due pacchi di fusilli corti. Un altro pacco di fusilli corti. Ecco qua, abbiamo finito. Ecco, allora, questa adesso verrà incartata e spedita al nostro caro amico a Milano. Passate a trovarci quando volete nel nostro punto vendita per comporre la cesta insieme a voi, a vostro piacimento, oppure potete contattarci, ci sono le informazioni qui sotto, numero o sulla nostra pagina. La spediamo direttamente a casa vostra. Grazie e arrivederci.